L'Agropoli ha chiesto il ripescaggio, è ufficiale. Persa la Serie D nell'amaro doppio spareggio contro i Castrovillari, l'Agropoli tenta la carta del ripescaggio. La voce già circolata nei giorni scorsi ha trovato conferma nel pomeriggio di ieri, giornata nella quale scadevano i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio in Serie D. Sono 19 le compaggine non aventi diritto che puntano a partecipare alla quarta serie. Di queste, quattro squadre partecipanti al campionato di eccellenza e quindi retrocesse. L'Agropoli è l'unica della campagna. Dunque, il due dirigenziale Cerruti e Puglisi ha presentato al Dipartimento Interregionale di Roma tutte le documentazioni necessarie per il ripescaggio. Questo è il secondo anno consecutivo che la compagine del Cilento si affida alle carte bollate e ai posti vacanti per tornare nel massimo campionato dilettantistico. Non hanno fatto richiesta di ripescaggio le Bolitane e la Fragolese, che affrontano delle difficoltà societarie con entrambi i titoli nelle mani dell'amministrazione comunale in attesa di imprenditori pronti ad investire nel calcio.